Ok, allora, questa è l'auto di mia madre, quindi io sto in mezzo, anche perché tanto lo so che volete stare vicino a me, e poi sono la più piccola. Mamma, ma tra quanto andiamo? Amore, stiamo aspettando le altre. Ma le altre chi? Io per il mio gruppo ho scelto alle Franci, nessun altro. Perché Sabrina si sta avvicinando alla nostra macchina? Spostati. Tu non fai parte del nostro gruppo? Sì, invece. No che non lo sai, quindi vattene, ok? Ciao. Nicole, non ci si comporta così, è giusto che anche lei stia insieme a voi. Hai capito? Ma io non l'ho scelta, lei non deve stare con noi. Certo che deve. No, l'insegnante ha detto che dovevo scegliere chi portare con me e con la compagnatrice, e io lei non l'ho scelta. Mi ha chiamato sua mamma e mi ha detto di farla stare con voi. Sì, solamente perché non ha amici che nessuno la vuole. Vieni, entra. Allacciate le cinture. Questa è la mia canzone preferita. Mamma, cambia.